Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. State ascoltando Slow Italian Fast Learning. Per trovare il testo a fronte italiano-inglese, visitate www.sbs.com.au barra Slow Italian. Slow Italian Fast Learning. Le strade di Roma sono stranamente silenziose, risultato dell'epidemia di coronavirus. Con le misure di isolamento recentemente annunciate, la popolazione locale si preoccupa dell'economia, del turismo e del sistema sanitario. La gente racconta di non aver mai visto la capitale così e teme che il peggio debba ancora venire. La famosa piazza del popolo di Roma è deserta. Si tratta di una scena che si ripete attraverso i centri storici di tutta Italia, con i luoghi di interesse tradizionali che non attraggono più folle da tutto il mondo. L'effetto a catena è stato immediato. La famiglia di Raffaello Sasson gestisce un negozio di abbigliamento nella città dal 1970. Raffaello ha dichiarato di non aver mai vissuto un momento più difficile. Da Pietro è un'istituzione a Roma, tanto che, in genere, bisogna prenotare con mesi di anticipo. Francesco Massotte ha rivelato che ora il telefono suona solo per le cancellazioni. Yes, the last two weeks have been tragic. In the historic centre here, not even a single tourist. We've been here for 15 years, and that's never happened. Mentre il virus continua a diffondersi, i residenti fanno il possibile per proteggersi. Ma in mezzo al panico c'è qualcosa di positivo. Ancora Raffaello Sasson. Una speranza condivisa dal paese. Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.